Gara brutta e praticamente senza emozioni, quella degli Ulivi tra Fidelis Andrea e Virtus Francavilla, che si dividono la posta in palio lasciando quasi inoperosi due portieri. È la sfida degli ex, c'è Risolo per Calabro a centrocampo, mentre in avanti la Boa Patierno al fianco di Maiorino. Per Trocini uno dei tanti ex, ora della Fidelis alcune novità in formazione, panchina per l'ultimo arrivato Pastorini, mentre in campo c'è Micoschi, esterno di centrocampo a sinistra nel 3-5-2 con Ventule e Bolsius ad agire in fase offensiva. Torna a titolare Paolini al fianco di Candellore e Arrigoni a centrocampo, fiducia a Polverino in porta, primo tempo molto bloccato e con pochissime emozioni. La Fidelis a costruire però subito una bella azione con Ventule, la spalla alla porta e il servizio arretrato per Paolini, il cui tiro di controbalzo è salvato in corner da Avella, tanto possesso palla con le due squadre che si annullano a vicenda. Due tiri senza patemi d'animo, uno per parte, attorno alla mezz'ora con Cisco prima e Ventola. Poi molto più pericoloso invece il tiro dal limite di Maiorino su rinvio corto di De Franco, bravo Polverino a salvare tutto sulla sua sinistra. Borg dall'altro lato ci prova con un tiro troppo debole e largo, nessun cambio nella ripresa, che a conti fatti sarà anche più brutta della prima frazione. Unica novità, Mikowski spostato da Trocini sulla destra ed una sua iniziativa dopo meno di quattro minuti mette in condizione Candellori di provare una sforbiciata in bello stile nel cuore dell'aria. La sfera però è troppo alta. La replica ospite con il solito Maiorino ci prova dal limite, attento Polverino, solo tanti cambi dopo il quarto d'ora per le due squadre con l'esordio. Anche di Pastorini nella Fidelis, ma il gioco ristagna a centrocampo e le due squadre si annullano in attesa di un episodio che però non arriverà mai. Ci prova solo Arrigoni a tempo scaduto con un tiro di prima intenzione che finisce sul fondo. Troppo poco per provare a portare a casa un successo che manca da oltre due mesi e che pesa come un macinio sulla classifica e sul morale della Fidelis. Domenica nuovamente in campo, questa volta sul proibitivo campo della capolista Catanzaro. Buono invece il pari per la Virtus che dopo il successo casalingo con il Monterosi riesce a dare continuità dei risultati e domenica affronterà in casa il Giuliano.